Ciao, sono Beatrice Casati, ho 20 anni e mi sono diplomata nel luglio del 2019 presso il liceo classico Setti Carraro. Parallelamente agli studi classici ho coltivato anche la mia passione per la musica suonando il Gliolancello presso il Conservatorio di Milano. Questa passione viene coltivata tuttora insieme alla Facoltà di Medicina di cui sto frequentando il secondo anno presso il Polo San Paolo. Nel corso di questi cinque anni trascorsi alla Setti Carraro sono stata supportata e accompagnata alla scoperta di talenti, passioni, aspetti di me che poco conoscevo e soprattutto ho saputo trasformare in punti di forza le mie difficoltà. Sono nati e fioriti dei bellissimi rapporti sia con amici sia con professori che coltivo tuttora con affetto. Sono stati anni faticosi, intensi, ma li sceglierei altre mille volte perché senza questo percorso non sarei là. persona che ora sono e che sono chiara di essere. Ciao!